Allora parliamoci chiaro, le reaction sono video tanto trash almeno quanto le top 5 quindi penso di essere scaglionato per questo video Qua accanto vedete un po' una lista di video che sto per fare e che sto preparando oltre agli altri video principali sui youtuber di analisi del loro canale Analizzerò per primo, sono indeciso tra Federic e Pokémon Millennium Federic ha un canale che a livello proprio aziendale è ottimo poi vi spiegherò perché, perché comunque vendere i bambini non avete idea di quanto è difficile e Federic ci riesce, quindi tanto chapeau ma andiamo subito a reagire a questo video Ok, quindi sta ascoltando la canzone per riuscire a riunire i membri del team Esatto, Pokémon Showdown Ferro torna, anche se Ferro con lo shot, però è stata una buona idea, ci sta Ferro torna nel team Immensi nella fine, entra insieme a Tapu Fini Gioco con Mac, vinco con Mac Però ecco, al posto di Ferro torna io ci ho messo Goldhack Perché mi piace Psyduck e lo evolvo in Goldhack Ferro torna uno shot, però in realtà per la sinergia Ferro torna è ottimo, è straforte in questo team Cioè, questo team fatto così è molto più forte del mio con Goldhack Però ecco, Muddy Water con la Spex è di Tapu Fini Quindi andavo a messo lo Spex su Tapu Fini, però davvero Vediamo subito Mo' di qua, io non l'ho messo Ciao un XR, ragazzi GG Man Capolavoro sto video Ben distrutto E il mensine è la fine, entra insieme a Tapu Fini Ok, mi dictona Più o meno, ok Kaioga Lo gioco solo E Kyogre Brave Bird Oh, wow Non mi aspettavo il Kill Soffin in realtà Leaf Blade, quindi Kyogre non ha Spex, è male E le Scarfe, volevo dire Ok, dai, GG Fortissimo sto team, comunque Ferro tornato alla tre è abbastanza forte e coperto da Oko e Kyogre, quindi Molto, 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 molto forte Secondo match Celestina Lugia Cosa? Doppio Fire Doppio Fire Uber Predigt Della Leading Questo genio è rimanato in Cospa Aspetta 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 Insideroare davanti A più zero Aspetta Aspetta Cioè C'è le stila e lo lasci Aspetta Aspetta Sto morendo Aspetta Giustamente Kyogre What the fuck is that? What the fuck is that? Zeta Power Zeta Tailwind Protect I see you in the mountain Mountain ha anche white guard Non è neanche così male Riccato che muoia da tempo poco Questa ha preso un botto di danno What the spout GG man E' giusto Thunder Punch Boia Ma i danni Mi sa che è solo offensivo quel mark Non va bene Però vabbè Il miss Snar Snar Insideroare non è male In questo metagame Perché vabbè Questa partita è infinita Electivire Choice Band O cosa? Questo qui c'ha Sei volanti Un'electa Che trash Oh L'uncchia C'è le stile Marta Ugo Ok E' stato davvero un bel video Davvero 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 bello Mi è piaciuto davvero tanto Sporono tanti di voi a fare cose simili O comunque A prendere pezzi dei miei video A farli se volete fare dei remix Di tutte le volte che smadonno Eccetera Perché comunque Il video con cui Con cui ho riassunto Con Rossini Di sottofondo la gazzaladra Tutte le sculate Ha fatto 4k E' stato un po' il video Che mi ha fatto Andare su di qualità Quindi Qualora voi le faceste Questi video O nel vostro canale O me li passate Li metto io O nel mio Vi metto i credit Comunque Le react Le faccio più che volentieri Grazie dell'attenzione boys Alla prossima